Ok, io direi che possiamo iniziare, pian piano immagino che torneranno tutti in aula e quindi direi che lascio subito la parola a Marina Guzzoni che è la nostra Presidente di IUCD. Attuale Presidente, ma qui sono circondata da Presidenti, Francesca Tomasi che mi ha preceduta e Fabio Ciotti. Allora, diciamo che il tema della tavola rotonda come emerge anche dal programma è chi forma i formatori, ma prima di arrivare a questo tema abbiamo preparato qualche slide che soltanto funziona da stimolo alla discussione sostanzialmente. Innanzitutto questa frase, e qui ci piace ricordarlo ancora una volta, è una frase che amava molto Dino Buzzetti. Oggi lo abbiamo citato varie volte, non ripeterò quello che è stato detto, il profilo scientifico di Dino Buzzetti è già stato delineato in mattinata. Io dirò soltanto che Dino Buzzetti era anche il Presidente onorario della nostra associazione e tra i cofondatori dell'Associazione di Informatica Umanistica e Cultura Digitale. E quindi a lui dedichiamo questa tavola rotonda e gli abbiamo anche preso a prestito, come dicevo, una domanda che era molto cara a Dino. Allora, qualche dato di partenza e qui riassumerò quello che in fondo è già stato detto in mattinata, però è utile ripercorrerlo brevemente. Sulla base di un'analisi di Alma Laurea del 2021, l'analisi risale al 2021, come ci ha ricordato oggi il professor Dionigi, il profilo delle digital humanities, l'ambito, diciamo, delle digital humanities, ha molti più. È questa un'espressione che mi è piaciuta molto di Dionigi oggi. Però vediamo anche come nel 2021 Alma Laurea ha indicato il B dei digital humanists. È stata condotta un'analisi, che si dice, a partire dall'offerta formativa di tutti i corsi di laurea del sistema universitario italiano. E poi sono stati valutati i corsi di laurea, al cui interno è presente almeno il 5% dei crediti del settore scientifico disciplinare di informatica e ingegneria informatica. Quindi almeno il 5% di questi settori, unendo le competenze umanistiche, ma unendo in senso non di osmosi, ecco, io non vedo molto osmosi, un'addizione, diciamo, aggiungendo alle competenze umanistiche almeno un 5% di crediti in informatica e ingegneria informatica. Questo però era la fotografia del rapporto Alma Laurea 2021, che riguarda il 2020, e poi vedremo che i dati forniti in quel rapporto riguardano un anno ancora precedente, cioè il 2015. A questo è stata poi aggiunta la classe di laurea metodologie informatiche per le discipline umanistiche, per ragioni di coerenza interna, dice questo rapporto Alma Laurea, molto importante perché è un approfondimento proprio dedicato alle digital humanities. Quindi qui la laurea LM43, che adesso la situazione è cambiata e vedremo fra poco che si sono fatti dei passi avanti rispetto anche alla situazione comunque rosea, descritta in questo approfondimento di Alma Laurea, la laurea magistrale in digital humanities è stata aggiunta a tutto il resto. Si dice in questo rapporto che ben 770 corsi di laurea umanistica su 770 corsi di laurea umanistica, 72 corrispondono alle caratteristiche sopradescritte, però nelle lauree magistrali, cioè raggiungere almeno il 5% di materie di informatica o ingegneria informatica, e che questa percentuale sale al 14,3% nei corsi di laurea magistrale. Naturalmente i dati sempre riportati all'interno di questo rapporto ci mostrano una situazione di occupabilità dei nostri laureati, cioè dei laureati che rispondono alle caratteristiche che vi ho appena descritto, non i nostri, quelli che rispondono alle caratteristiche che vi ho appena descritto, superiore rispetto ai laureati non di molto a quell'epoca, l'epoca è il 2015 comunque, 83,8 rispetto a 78,6, però insomma c'è una occupabilità, un tasso di occupazione superiore rispetto ai laureati in discipline umanistiche senza questo apporto del digitale e si vede appunto dal grafico anche un maggiore guadagno, insomma una retribuzione mensile media, una retribuzione mensile netta superiore rispetto ai laureati in discipline umanistiche. Ora rispetto a questa situazione però siamo andati avanti, rispetto al 2015 moltissimo, questa slide non è forse molto leggibile però dà un'idea di insieme, potete ricavare questi dati andando a consultare il sito di IUCD, noi facciamo anche una rassegna di corsi sia triennali che magistrali in Digital Humanities, in realtà nei corsi triennali non sono molti veramente in Digital Humanities, c'è una situazione più variegata per quanto riguarda le triennali, mentre la laurea magistrale in Digital Humanities come ci ricordava Tulli oggi esiste ed è la LM43, quindi l'elenco che vedete qui è l'elenco degli attuali corsi LM43 che sono molto, sono fioriti, c'è stato un periodo in cui abbiamo aggiunto moltissimi corsi nuovi magistrali in LM43 e manca ancora ad esempio quello di Bergamo, quindi non è neanche completa questa rassegna, quindi stanno aumentando a tal punto che gli ultimi rapporti di Alma Laurea ci permettono di valutare la performance dell' LM43 in particolare e la performance con il rapporto 2023 che in realtà mostra i dati 2022 come la dichiarazione dei redditi si diceva oggi, questa mattina, si vede che appunto si possono avere dei dati specifici per questa classe di laurea, anche se devo dire, inviterei gli studenti, adesso sono pochi gli studenti, ma a compilare i questionari, perché gli studenti sono molto pochi, addirittura il numero degli intervistati è appena 15, quindi i dati non sono proprio statisticamente rilevanti, anche se diciamo che il dato macroscopico, più macroscopico è che la percentuale degli occupati a 5 anni dalla laurea è al 100% in tutte le lauree, i corsi di laurea LM43, quindi la percentuale degli occupati è totale, diremo così, oggi si è detto più volte che addirittura alcuni laureandi vengono già contattati dalle aziende, quindi trovano lavoro prima ancora di laurearsi. Questa situazione ci porta poi, questi dati che ho riassunto brevemente, ci portano però a dei punti di discussione che non sono risolti, perché non è tutto così roseo, non è tutto così, con così tanti più come potremmo pensare sulla base di questi dati. L'occupabilità sembra un dato effettivamente favorevole, i dati sono trasparenti, però rimangono aperte varie questioni, per esempio la questione della formazione a livello universitario, cioè se noi andiamo a vedere, e qualche intervento poi dopo lo farà, all'interno di questi corsi di laurea LM43. Chi insegna le DH, chi insegna le Digital Humanities all'università? Ricordiamo che non abbiamo un settore scientifico disciplinare dedicato, quindi chi le insegna le DH? È solo, come si diceva all'inizio, discipline umanistiche insieme ad un po' di informatica, un po' di ingegneria informatica o è qualcosa di più? E un'altra domanda particolarmente interessante, importante, è insegnare le DH a scuola, perché anche qui manca un percorso istituzionalizzato, non manca un percorso istituzionalizzato, ma a fronte della marcanza di un percorso istituzionalizzato abbiamo un'evidente necessità di formazione. Ci sono numerose richieste di formazione da parte dei docenti stessi delle scuole e l'associazione UCD si è anche mossa in questo senso insieme per esempio ad AICA o abbiamo firmato recentemente una convenzione con AICA, ma la convenzione è stata firmata di recente, ma in realtà i corsi insieme ad AICA per gli insegnanti delle scuole si sono attivati anni fa, sono stati attivati anni fa. Quindi chi sono i formatori di chi poi dovrebbe insegnare Digital Humanities? E da qui partiamo, perché naturalmente la domanda è quella iniziale. Chi forma i formatori? A questo punto io passo la parola al vicepresidente dell'associazione Maurizio Lana. Grazie. Se non è il seggio pericoloso nella tavola rotonda, questo è il microfono pericoloso in questo momento, ovviamente la domanda chi forma i formatori poi è la domanda chiave. Una parte dei discorsi fatti questa mattina, poiché verranno fuori anche in questa tavola rotonda questo pomeriggio, sottolineerà, sottolineerà da una parte un problema, diciamo così, istituzionale, nel senso che i saperi esistenti consolidati hanno una posizione dentro la struttura dei saperi universitari definita. Digital Humanities, abbiamo sentito tante voci che dicono questo è un sapere consolidato, non è fuffa, però non c'è una posizione consolidata dentro la struttura dei saperi universitari. Allora questo è il primo scoglio sulla formazione dei formatori, perché vuol dire che la formazione dei formatori non avviene nel quadro dei percorsi normali, ordinari di formazione dei formatori. La formazione avviene per vie secondarie, questo fatto che avvenga per vie secondarie, come questa stessa cosa che fa la UCD, non significa che sia di minor valore, ma significa che non ha la stessa incisività che potrebbe avere se ci fosse un percorso istituzionalista. Questo è il primo punto, mi sembra importante. L'altro punto importante su questa questione mi sembra è che noi qui ci parliamo del fatto che è necessario formare i formatori, ma fuori di qui c'è una vera coscienza di aver bisogno di formatori sulle digital humanities, o come succedeva ai tempi dei primi world processor, chiunque si inventava tipografo e produceva le cose più assurde perché il world processor gli permetteva di giocare con i fonti, i colori e i colori. Capite cosa voglio dire? Siamo, cito apposta a quel tempo là, remoto, che almeno per molti degli studenti qui dentro non è mai stato vissuto, ma almeno noi che siamo un po' più, che abbiamo qualche anno di più, lo conosciamo, per dire che siamo ancora in una situazione nascente se siamo in un contesto in cui le persone possono inventarsi da sé di essere competenti su delle cose digitali. Siamo passati attraverso questo con la stampa delle fotografie, siamo passati attraverso questo con la produzione dei video e man mano nel corso del tempo si è messo a fuoco che in realtà c'è un divario tra il livello amatoriale e il livello della competenza professionale. Qualcosa di simile dovrà avvenire anche nel campo delle digital humanities. Quello che vedo, complicato però, è rischioso per le digital humanities, perché mentre la stampa delle foto ognuno se la poteva fare in casa e magari qualcuno se la fa anche in casa ancora adesso e questo non cambia niente se non forse la qualità e la durata dei suoi ricordi fotografici, nel campo digital humanities oggi sembra che in una infinità di contesti o ti dichiari capace di operare in digital humanities oppure siano sfigato per cui il progetto, la proposta, l'iniziativa eccetera non verranno neanche guardate. E allora questo significa che c'è una richiesta di digital humanities di cui sarebbe curioso anche cercare di capire quando è che è incominciato a esserci perché fino a un certo punto noi tutti sappiamo che noi digital humanities eravamo gli sfigati che al massimo erano dei simpatici smanettoni a cui però non si concedeva niente di serio perché noi eravamo né informatici né umanisti per gli informatici non eravamo informatici per gli umanisti non eravamo informatici allora a un certo punto è nato questo bisogno di dichiararsi tutti digital humanities per poter mandare avanti proposte, progetti eccetera non mi è ben chiaro quando sia avvenuto però a un certo punto c'è stato un cambiamento fuori si valuta le proposte di coloro che si dichiarano autonomamente digital humanities che elementi ha chi sta fuori per valutare se una proposta che si dichiara digital humanities è una proposta robusta per questo dicevo ma fuori di qui c'è una consapevolezza che occorrono i formatori e quindi io per il discorso lo vedo su due livelli cioè da una parte formare i formatori ma dall'altra parte operare e penso che non so dire in che modo però operare tutti quanti ognuno per quanto sa nel suo campo per rendere noto e per rendere evidente che in realtà occorre la formazione alle digital humanities dice che non è che chiunque si può dichiarare digital io non grazie mille Maurizio Paolo io inizio con un aneddoto continuando naturalmente il filo del discorso che è sempre quello cioè io odio le barriere le paratie disciplinari i titoli le carte bollate però l'Italia è fondata sui titoli a me è successo di farmi curare un dente da una persona che non fosse una dentista era però la moglie del dentista cioè suo marito e suo figlio erano laureati in odontoiatria lei lavorava lì da una vita ma era biologa tra l'altro il figlio è stato tornato a scuola allora ero lì e allora ho avuto la forza di reagire mi ha curato questo dente mi è andata bene però a me avrebbe messo più sicurezza sapere che questa persona aveva titolo a curarmi un dente cioè era laureata in odontoiatria cosa vuol dire in Italia perché come è fatta l'Italia poi faremo la rivoluzione liberale e faremo come in America diciamo la formazione si vende sul mercato no però finché siamo in Italia e in Europa aver titolo vuol dire che uno si è laureato o diplomato su una formazione tecnica e i suoi insegnanti sono stati professori universitari abilitati che hanno vinto tutto sono nella classe di laurea odontoiatria questo significa allora perché dico questo perché quando abbiamo discusso di questa mancanza di una classe di concorso mancanza di un settore scientifico disciplinare digital humanities all'università nel direttivo c'è Andrea Boglioni che ha un'azienda e ci ha detto ci sono lacrime delle cose il Boglioni ci ha hackerato cioè ci diceva si attenzione nel settore scientifico disciplinare perché tu vuoi fare carriera universitaria e tu altro vuoi diventare ordinario questo è vero però attenzione è anche un problema della società il modo in cui il sistema formativo forma di me che mi faccio curare il dente di me che assumo un digital humanist in azienda di me che mando un figlio in un'università sapendo che questa persona che assumo ha titolo come digital humanist perché all'università i suoi docenti sono stati diciamo titolati in informatica umanistica quindi la domanda è chi insegna l'informatica umanistica all'università abbiamo fatto un sondaggio come IUCD per cui vi porto qualche risultato qui in due diagrammi a tosta sono soltanto due era stata fatta un'indagine del genere da Raul Mordenti e Tito Orlandi vent'anni fa in cui si vedeva che buona parte degli insegnamenti erano dati a contratto la situazione invece questa fotografa è il 2001 2021 2022 è che come vedete solo un terzo degli insegnamenti sono esterni due terzi sono interni ma questo è dovuto anche a un fatto che sappiamo bene chi lavora dentro l'università cioè le università devono ridurre i contratti quindi si prende il primo collega che più o meno è in grado di fare questa cosa e gli si fa insegnare allora questo diciamo tra i denti chi insegna effettivamente abbiamo fatto poi un'indagine partendo da un sondaggio allargato poi una schedatura di 50 corsi di informatica umanistica all'università andando a studiare i docenti che li tenevano una serie di dati come vedete in blu nel 22% dei casi questi corsi non dichiaravano un settore scientifico disciplinare quindi non lo possiamo sapere anche perché è complicato perché poi devi assumere qualcuno ma non c'è il settore e questo già poi in arancione il 22% sono corsi di informatica umanistica magari a lettere o a beni culturali che hanno come etichetta il settore scientifico disciplinare informatica o ingegneria informatica o ingegneria informatica poi abbiamo questa petta gialla il 16% il settore scientifico dei corsi che abbiamo schedato il settore scientifico disciplinare era M10008 cioè archivistica biblioteconomia che è un settore particolarmente aperto questo in un 14% dei casi quella italianistica o letterature comparate che sono state menzionate stamattina da Mauro Tulli c'è un settore che a sua volta è aperto a questo cioè gli insegnanti non quelli che tengono questi corsi appartengono a questi settori e poi vedete la babele filologia e letteratura e meteoromanza e glottologia e linguistica altri di ambito umanistico altri di ambito non umanistico che sono il 4% insomma ai nostri studenti all'università l'informatica umanistica viene insegnata da un po' tutti cosa vuol dire questo concretamente questo è una schermata che nota Marina Puzzonio che viene dal dalla concorrenza cioè la corso di informatica umanistica magistrale di Venezia questa è queste sono le materie di ambito umanistico guardate i titoli Introduction to Digital and Public Humanities titolo veramente di Age e in effetti questa materia è insegnata da due veri di Acer Franz Fischer e Holger Esla il settore scientifico disciplinare e le file 08 vuol dire filologia medio-latina perché Franz Fischer è un medio-latinista Digital Tools and Resources for Textual Data insegnata da Marina Puzzoni infatti il settore scientifico disciplinare è filologia germanica interessante il caso a chiudo di XML Databases in the Humanities che prima era insegnato a Holger Esla che era su filologia classica i database di XML notoriamente niente della filologia classica adesso è cambiato il docente ma è sempre su filologia classica perché lo insegna Daniele Fussi che anche lui allora sostanzialmente tutte le persone che ho citato alla prima all'ultima e apposto ho citato questo perché ci insegna gente che stimo sono veri informatici umanisti si dà il caso che lo siano nessuno di loro è stato assunto per insegnare XML Databases in the Humanities perché ha in quanto tale cioè perché ha competenze XML Databases in the Humanities sono stati entrambe queste persone ce le abbia sono state assunte ufficialmente con un bando su filologia classica su filologia germanica insomma abbiamo una situazione in cui veramente chi ci tira i denti non è non è formato le persone che sono assunte in quanto donto gli altri va tutto bene quando va bene infatti la filologia classica a Bologna va bene poi alla fine le cifre parlano la fama e il successo nel corso di studi parla siamo in fondo sempre come in America Venezia va bene ci sono posti in cui non può andare bene in questo senso e con questo chiudo la mancanza di un settore scientifico disciplinare per come funziona la formazione in Italia per come funziona il mondo delle professioni in Italia un'azienda non può prendere non può guardare 200 curricula di autodefinitesi informatici umanisti perché penso che perderebbe due settimane a fare questo deve sapere che le persone hanno qualche titolo per presentarsi per quel posto e allora la situazione italiana non è solo un problema ma mi ha fatto veramente di lettera Andrea Boglioli di noi accadenci e noi universitari è un problema della società dato che la società ha questo bisogno formativo e dato che in Italia si va avanti per titoli quindi la domanda rimane chi insegna l'informatica umanistica ed è possibile garantire una formazione seria senza un settore scientifico disciplinare andando al sodo il problema infatti è l'abolizione dei settori scientifico disciplinari un po' di più basta fa basta perché ci sta di mezzo in line vabbè mettiti allora io sto su piazza da un po' d'anni Francesca un paio d'anni di meno ma insomma abbiamo vissuto più o meno vicende simili e questa questione è una questione che ci angustia da quegli anni parliamo degli anni 90 sono passati ormai purtroppo 30 anni siamo sempre là allora dopo 30 anni e dunque partecipa da vari dibattiti tentativi effettivi di definire un quadro istituzionale nel quale collocare quelle che chiamiamo in Italia le informatiche humanistiche poi sono diventati digital humanities e questo non è stato un passaggio innocente badate bene perché ha coinciso non solo con un cambio di etichetta in ambito statunitense da humanities computing a digital humanities ma ha coinciso con una esplosione del fenomeno che ha portato dentro l'etichetta digital humanities una diversità tale che è irriducibile all'unità ora questa irriducibilità all'unità in Italia era meno pronunciata quando abbiamo cominciato la nostra storia io e Francesca non so se da quanto te ne occupi tu ma insomma forse più o meno non dico 30 ma magari sono no dove per motivi storici l'informatica humanistica era legata fondamentalmente all'area diciamo linguistico-letteraria con alcuni in Italia pochi esponenti dal mondo della storiografia negli ultimi e poi ovviamente c'era il mondo delle biblioteche ma che era un mondo che l'informatica per motivi strumentali la usava da 20 anni perché i primi OPAC risalgono agli anni 60 inizio anni 70 c'aveva già i loro protocolli di utilizzo è uno strumento di lavoro la riflessione teoretica su come cambia la biblioteca avviene solamente alla fine degli anni 90 il concetto di digital library la famosa rivista online di Lib è di quegli anni cioè è coeva alla questione degli umani scompiti che voglio dire voglio dire che in realtà mentre all'epoca noi eravamo convinti che fosse possibile e dunque necessario per le questioni che dicevamo avere un settore disciplinare che identificasse quel nucleo di sapere e di competenze che avevamo individuato come il core dei digitali umani oggi io sono molti più dubbi perché proprio l'esplosione del fenomeno la big tent come chiamarono il convegno del 2011 a Stanford che poi ha in parte coinciso con questa esplosione soprattutto in Nord America ma anche poi in parte d'Europa vedi la Germania dove c'è stata una crescita negli ultimi cinque anni di cattedre di digitali umani variamente declinate è fenomenale vengo da una riunione con De Groeter settimana scorsa per un progetto europeo e appunto loro appunto hanno raccontato che hanno intere collane dedicate a questa cosa che hanno producono cinque sei libri all'anno De Groeter è un editore di medio grandi dimensioni non è come Springer ma insomma siamo o come Oxford ma siamo a livelli molto alti e hanno diverse collane e badate bene cioè non hanno una collane ma hanno diverse collane che producono ricerca in qualche modo digitale o computazionale negli ari ora il problema è che questo è il fatto sì che ormai c'è una diversità tale e questo in qualche modo io come dire unisco anche l'altro compito per cui sono stato chiamato qua cioè il libro che ho curato questo lo dimostione anche quel progetto editoriale perché se voi prendete quel libro almeno la seconda parte parla di saperi che sono molto lontani l'uno degli altri quello che io ho a spartire con la professoressa Orlandi che è la più importante bibliografista digitale in Italia e una dei più importanti del mondo è praticamente molto poco ora questo poco però è sufficiente per identificare una disciplina che potrebbe ambire allo statuto di disciplina autonoma ora io nella mia introduzione al libro dico sì c'è questo nucleo ma è molto difficile che venga identificato come disciplina autonoma perché è un nucleo che è fondamentalmente metodologia o metodologico e come sapete bene una disciplina strettamente metodologica in Italia non è mai esistita esistono penso nell'area 11 e 10 solamente due gruppi che sono fondamentalmente metodologici una metodologia di ricerca sociale e poi c'è la metodologia di ricerca archeologica ma dove la metodologia è giustamente in archeologia come si scava perché bisogna stare attenti perché se dai una martellata o una piccola dal punto sbagliato rompi il manufatto per cui quella è la metodologia fondamentalmente e poi ci sono alcuni aspetti ovviamente poi per il resto non esiste un'area disciplina metodologica nella scienza umana ma perché le scienze umane non hanno una metodologia l'altro giorno su New Little History un intervento di una famosissima di cui non ricordo il nome è scienziata è storica della scienza che appunto diceva ma le scienze umane perché non hanno una metodologia definita come hanno le scienze dure dove la teoria dell'esperimento la teoria della verifica eccetera sono tutte cose condivise quasi universalmente no e lei diceva probabilmente il problema della crisi degli umani si è anche dovuto al fatto che mancando di una metodologia chiara con cui noi costruiamo conoscenza non sappiamo dire qual è la nostra conoscenza e qui non siamo riconoscibili all'esterno come umanisti io non credo che questo sia il problema semplicemente il mondo cambia le esigenze di conoscenza del mondo cambiano ma comunque sia perché non c'è perché non può esistere un'unica metodologia a questo punto chiudo il dibattito io non ho una risposta oggi chi forma i formatori i formatori di storia digitale devono essere anche degli storici non ci sono santi io non sarei in grado di insegnare storia medievale probabilmente non sarei neanche in grado di insegnare filologia anzi sicuramente sicuramente la filologia è una parte più vicina del nucleo dei saperi il digitale aggiunge qualcosa di sostanziale all'essere filologo o meno sicuramente sì ma se non hai quella competenza in questo oggi io capisco anche i dubbi e i dubbi che ci hanno anche attanagliato perché oggi crearsi un aggruppamento disciplinare dentro alla comparatistica che poi in realtà è un aggruppamento di per sé multidisciplinare perché c'è dentro gente che ha falliti germanisti falliti anglisti falliti italianisti o falliti cioè gente che ha trovato più spazio piuttosto che nella germanistica nella comparatistica veri comparatisti pochi in Italia alcuni teorici della letteratura anche quelli molto pochi e poi varia gente di varie umanità chi fa studi culturali chi fa emagologia chi fa teoria della traduzione no? che sono tutte dicilvine completamente diverse è chiaro hanno a che fare con i testi allora lì dentro ci possiamo mettere anche le digital humanities almeno quelle che riguardano gli aspetti culturali e gli aspetti testuali ma non ci possiamo mettere gli storici non ci possono gli archeologi che ne so per cui la mia risposta oggi in realtà noi quello a cui possiamo puntare è avere una presenza forte nelle varie discipline o nei gruppi adesso dal puntista tecnico abbiamo sentito stamattina tu lì e non è talmente noiosa la cosa che non voglio assolutamente ripetere insomma comunque è una presenza solida forte e sostanziale ma soprattutto far crescere la scienza la ricerca i prodotti scientifici di livello nei vari ambiti disciplinari chi è storico farà storia e produrrà informazioni scienza storia chi è letterato farà la stessa cosa con la letteratura chi è teorico farà teoria perché io sono teorico e faccio teoria e dunque dare spazio a chi produce ricerca in modo che possa poi essere riconosciuto come ricerca di qualità e far carriera ed eventualmente consolidare ma questa ripeto è una domanda consolidare un nucleo metodologico comune che si può identificare ma è molto è molto complicato e più va avanti più diventa complicato cioè man mano che io sono andato avanti negli anni mi sono reso conto che questa unità che io ho professato teoricamente dicendo c'è un'unità in realtà mi sfugge quando mi metto lì sul tavolo a scriverla che cos'è che è l'unità o almeno gli elementi incomuni gli assi comuni fino a ieri mettiamoci dentro il concetto di modello che non vuol dire tutto per cui è un truismo un po' di xml va bene ma quanto dura xml è durato vent'anni dureranno altri dieci forse tra dieci anni sarà dimenticato forse sì forse non lo so ma è quello basta per dire che oppure un approccio di che tipo modellistico ancora qua il modello che cos'è ma poi perché questo è differente da quello che fanno altri perché possiamo allora veramente la questione secondo me è complicata e direi che per chiudere i formatori vanno formati da gente che conosce le cose che ragiona che conosce le competenze disciplinari ma anche una seria capacità di utilizzare le metodologie computazionali in quello che fa e a quel punto poi la qualità è misurata da questo piuttosto e qui porto una domanda ai colleghi che sono direttamente coinvolti in corsi di laurea paradossalmente questa crescita di corsi di laurea oggi pone un problema come valutare i corsi di laurea cioè la diversità che noi vediamo di questi corsi di laurea fa sì che alcuni sono fondamentalmente corsi di laurea in aree diciamo di disciplina della documentazione e della scienza dell'informazione alcuni proprio nascono in questo senso altri sono veri corsi di quello che chiameremo digital humanities orientati alla knowledge and representation questo di Bologna è fortemente orientato in quella direzione per cui abbiamo una diffrazione enorme quello di Pisa è fondamentalmente un corso di italianistica a cui sono state giunte materie informatiche lo è sempre stato è nato in quel contesto dove con la forte presenza degli italianisti e soprattutto degli storici della lingua italiana per cui ha questa impostazione ma ci sono definizioni del tutto diverse sono questo di Bergamo che vedevo recentemente appunto ha un'impostazione fondamentalmente mediologica anche qui c'è una enorme diversità allora io direi piuttosto che pensare oggi a un settore pensiamo a come consolidare questa offerta formativa vediamo ad esempio il rapporto con linguisti computazionali che è tutt'altro che piano intanto i linguisti computazionali il 70% sono ingegneri e giustamente si sentono ingegneri pubblicano come ingegneri su riviste da ingegneria con valutazione quantitativa e giustamente non hanno alcun interesse a trovare un rapporto se non talvolta strumentale con noi più o meno come facevano gli informatici puri qualche anno per cui anche qui i problemi sono molto più complicati allora dunque direi valutiamo bene cosa stiamo fornendo come offerta formativa cercando in questo senso di identificare almeno non dico un nucleo di un unico sapere comune le digitali umani che non esistono probabilmente nel modo in cui ce lo siamo immaginati ma almeno un nucleo di competenze comuni che possiamo identificare e su cui basare anche la qualità di questi corsi altrimenti rischiamo che tra pochi anni ci saranno 500 corsi di DGLM43 anche perché è un'area talmente comoda cifrate di tutto quasi ogni dipartimento è in grado di avere la sostenibilità in quell'area perché ha le discipline di base caratterizzanti per fare i corsi di DGLM43 questo è quasi impossibile per quasi tutti gli altri corsi meno che perché ci sia detto la storia e chiunque in un dipartimento umanistico c'ha un po' di storia c'ha un po' di italianisti qualche latinista magari uno che gli basta per formare i nove docenti se necessaria per cui il rischio è che quella LM43 diventa chiaramente un refugio peccatorum per chiunque ha i soldi perché li ha avuti per vari motivi i ludi dipartimentali o per altri motivi ancora e mette in piedi un corso che però poi nel giro di pochi anni creerà enormi delusioni e qua rischiamo poi il fallback perché appunto se si crea delusione poi il discredito ricade sull'intero ambito non solamente su quel corso quel corso taccherà per primo ma è probabile che questa cosa poi a un certo punto andrà a pesare su tutto su tutto il movimento no 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 va bene anche senza slide allora dunque tanto grazie allora io mi sono chiesto no quale potesse essere il mio no valore aggiunto ora a questo tavolo per questa discussione e chiedendomelo mi sono detto ma la mia storia è una storia di eccezioni che confermano la regola perché perché io mi laureo in ingegneria informatica quasi subito inizio a lavorare in progetti informati umanisti già dal 2007 mi laureo in ingegneria informatica dal 2007 e poi inizio un dialogo proficuo con il CNR quindi prima eccezione laurea in ingegneria informatica seconda eccezione CNR non un umanista non l'università ingegneria informatica CNR dopodiché faccio anche un dottorato dottorato anche lì in ingegneria informatica in realtà in ingegneria dell'informazione continuando ad avere assegni di ricerca al CNR dopodiché una volta dottorato mi chiama il presidente del del CDS di informatica umanistica all'epoca Alessandro Lenci di Pisa e mi dice Angelo te la senti di fare un corso a informatica umanistica anche se sei un ingegnere con piacere insomma lavoro al CNR su questi temi da qualche anno mi fa piacere contribuire contribuisco a quale corso? al corso di codifica di testi e su quale settore è L fil let 12 cioè è tutta un'eccezione il mio il mio percorso all'interno dell'edigenia di humanitis è tutto è tutto un'eccezione che conferma però una regola sia la regola che diceva prima Paolo sia anche la regola che diceva poc'anzi Fabio cioè una delle competenze come le mie un percorso formativo come il mio dove si configura all'interno della mia comunità che ad oggi è la comunità delle dj humanitis perché sono 15 anni che lavoro in questa comunità pubblico in area 10 non pubblico in area 1 non pubblico lì perché perché lavoro in quell'ambito e sono fortemente legato alla ricerca anche metodologica indice dopo che appunto è venuta anche la UCD sono due mandati quindi sei anni del direttivo della UCD quindi mi sento parte integrante della comunità però alcune volte mi sento un po' solo vi devo dire la verità per cui anche ad altri colleghi chiedo di sostenere anche la parte un po' più diciamo informatica o ingegneristica all'interno della nostra comunità ma non come sterni che danno una mano come persone integrate anche per evitare una babelle cioè un presidente di corso di laurea chiede a me di fare un corso su un settore che è lontanissimo dalla mia preparazione e non riesce a dare a ING INF 05 il corso che effettivamente sto facendo e il taglio che posso dare a quel corso non può essere un taglio di settore umanistico ovviamente lo darò con il taglio da ingegneri informati quindi al dibattito volevo aggiungere questo elemento che secondo me oggi è venuto fuori spesso anche il discorso è più facile formare un umanista diventare un informatico che il viceversa probabilmente è vero dopo dieci anni forse diciamo latino riesco più o meno a comprenderlo il greco no ecco quindi da quel punto di vista probabilmente è vero ecco queste erano un po' le suggestioni che volevo mettere vabbè no nel senso ma dal punto di vista strumentale presumo era il dibattito poco prima primo simbolo sommatorio all'umanità e quindi ma non voglio entrare nel merito di alcune cose perché altrimenti poi appunto questa dicotomia emerge e secondo me dobbiamo fare in modo che anche nelle rispettive differenze però si riesca ad avere una almeno una comunione di intenti e una presenza per io sono l'unico ora ad avere questo tipo di percorso all'interno del direttivo e alcune volte ne risento questa era un po' la suggestione che volevo dare al dibattito grazie allora io volevo spostare leggermente l'attenzione sulla formazione dei docenti di scuola superiore parto da alcuni dati che definiscono il contesto in Italia circa il 60% dei docenti di ruolo ha un'età superiore a 50 anni il che significa che la formazione che hanno avuto è stata soprattutto una formazione di tipo strumentale e quindi basata sulle CDL dove si è confuso ciò che era l'office automation con l'informatica e questo ha contribuito a creare una formamentis che è difficile da modificare ecco allora che quello che mi chiedo io è se questi soggetti della scuola abbiano realmente bisogno di essere formati o invece non abbiano bisogno di appunto essere informati trasformati eccetera ok e mi concentro soprattutto su quattro di questi aspetti prima di tutto l'informazione è molto importante che i formatori vengano informati sulle nuove tecnologie perché come vedete anche le loro stesse riviste di settore sono abbastanza carenti sotto questo aspetto appunto sono andato a cercare qualche dato sono andato a cercare a fare uno spoglio delle riviste di settore dedicate alla scuola e come vedete il quadro è abbastanza desolante se noi cerchiamo come parola chiave digital humanities o anche informatica umanistica vedete che tutto scuola mi dà quattro correnze tecnica della scuola me ne dà sei mondo digitale in questo caso me ne dà otto ok orizzonte scuola 32 e come vedete fra queste ne troviamo anche di polo negativo insomma con una polarità negativa Svezia quando la digitalizzazione è eccessiva e complica l'apprendimento ok allora credo che ci sia un forte bisogno anche di trasformazione ok quindi di avere un cambiamento di mentalità da parte di una classe docente che appunto è lavora già all'interno della scuola quindi io non mi sto concentrando tanto sulla formazione delle nuove eleve ma quanto appunto sulla informazione dei docenti che già insegnano a scuola e che quindi hanno una formazione pregressa e che soprattutto non desiderano essere considerati come gli scolaretti ai quali qualcuno dall'esperto di turno dall'esterno va a portargli la verità ok desiderano invece avere un rapporto di altro tipo che vedremo fra qualche slide ok altro concetto appunto quello di uniformare e conformare molto spesso ci troviamo di fronte a una situazione estremamente eterogenea in Italia per cui ci sono delle regioni virtuose che magari fanno delle azioni a livello regionale magari guidate da una università prestigiosa e molto attiva nel settore altre regioni dove non c'è nessun tipo di iniziativa altre ancora in cui le iniziative partono dal basso partono dal passaparola per cui attraverso contatti personali fra docenti della scuola superiore e magari ricercatori del CNR o docenti universitari nasce un progetto però questi progetti sono appunto molto hot couture ok nel senso sono veramente ritagliati su una realtà locale sono veramente ritagliati su dei casi specifici allora c'è bisogno di avere una maggiore uniformità nella nell'offerta ok e appunto anche una una capacità di rendere conformi di conformarsi a degli standard per esempio nei prodotti che vengono generati da questi progetti appunto quando parliamo di citizen science è molto importante che ciò che viene prodotto dagli studenti stessi controllato dai docenti e con una supervisione da parte di ricercatori eccetera possa anche rientrare in circolo e per fare questo appunto c'è bisogno di attenersi a degli standard in questo caso il ruolo delle infrastrutture di ricerca è cruciale è importantissimo il fatto che ci siano delle training schools che ci siano delle summer schools che ci siano delle iniziative che vengono guidate appunto dalle infrastrutture di ricerca che grazie al cielo in Italia si sono consorziate grazie anche ai finanziamenti del PNRR in H2IOSC e che quindi abbiamo queste quattro infrastrutture che sono focalizzate su quattro settori diversi della linguista computazionale e delle digital humanities è veramente una grandissima opportunità ecco allora qui vado verso le conclusioni che io credo che noi abbiamo bisogno di una comunità che si forma insieme appunto perché noi non dobbiamo andare dai docenti come dicevo prima portando dei contenuti preconfezionati è molto importante invece che ci sia un rapporto che ci siano molti rapporti diversificati fra tutte le figure della scuola quindi che ci siano appunto i formatori dei formatori che possono essere ricercatori cnr docenti universitari altri docenti ad esempio delle figure di cui teniamo poco conto sono docenti esperti ad esempio che hanno già fatto progetti che possono portare le loro esperienze e poi fra docenti e studenti chiaramente alla presenza dei loro formatori stessi ad esempio noi abbiamo visto che i progetti più efficaci sono quelli dove si costruisce insieme si costruisce prima naturalmente con delle azioni mirate verso i docenti ma poi queste azioni vengono allargate agli studenti in presenza dei formatori dei formatori stessi perché veramente i ricercatori imparano tantissimo dalla realtà della scuola questo è un aspetto di cui è molto importante tener conto perché molto spesso appunto si dice bene io c'è un po' quell'attesimento colonialista per cui io so come si fa a fare qualcosa tu hai la risorsa ti porto la tecnologia tu mi dai la materia prima e poi te la porto via invece si tratta proprio di coinvolgerle ultimo aspetto è appunto quello della crescente importanza anche dell'intelligenza artificiale che solo in questi ultimi mesi ha raggiunto una credibilità che prima non aveva e che quindi ci si può aspettare che nel futuro diventi sempre più forte e che quindi diventi come dire un interlocutore all'interno di questo ecosistema della formazione sono d'accordo con lui che è difficile individuare una base metodologica forte eccetera però io nasco come una filologa tradizionale io sono una filologa neolachmaniana ho fatto un dottorato di ricerca e nasco come filologa tradizionale ma io qualche differenza metodologica la vedo forse anche perché ho fatto anche degli studi scientifici vengo da un liceo scientifico e io vedo che ad esempio la tendenza a quantificare quindi questo aspetto quantitativo che era anche emerso dalla discussione con le aziende l'aspetto appunto l'attenzione verso la quantificazione generalmente non è presente in un filologo tradizionale per esempio se io devo guardare alla mia disciplina oppure la quantificazione è solo 1 più 1 più 1 le occorrenze di un termine 1 più 1 più 1 quindi approccio quantitativo oltre che valutativo che viene utilizzato per esempio anche nella stematologia la computer assisted stematology quindi nella stematologia digitale per esempio che è un approccio statistico quindi l'uso di metodi statistici per esempio quando io facevo ricerca in un paradigma assolutamente tradizionale non mi veniva in mente di usare metodi statistici oppure di osservare un così grande numero di dati certamente i nostri testi io sono una filologa germanica il numero dei dati è comunque limitato rispetto a chi studia altre realtà però diciamo che tendo a studiare più dati rispetto a un filologo tradizionale se mi ponessi in una prospettiva assolutamente tradizionale poi la conoscenza dell'oggetto della ricerca ci deve essere per forza è vero che gli oggetti della ricerca sono diversi e quindi questo è il problema nelle nostre discipline gli oggetti della ricerca sono diversi ma io dal punto di vista metodologico anche nella stesso nel nella stesso diciamo recupero dei dati nel retrieval dei dati e nella visualizzazione dei dati io voglio cose diverse se mi muovo in un paradigma digitale rispetto ad un paradigma più tradizionale questo non significa che metto da parte il paradigma tradizionale ma che le mie domande di ricerca sono un po' diverse questa è la mia esperienza soprattutto per quanto riguarda gli aspetti che ho qui citato quindi qualcosa di differente c'è secondo me rispetto a breve scusami ma assolutamente è quello che credo anch'io io infatti non ho detto che non esista una diversità tra il filologo digitale e il filologo tradizionale il problema è se riusciamo a scalare dal filologo digitale al critico letterario digitale allo storico digitale al digital humanist in quanto tale mentre io prima pensavo sì ci sono delle cose in comune ma una mano che vai avanti ma una mano che si accresce anche la mia io sono un anno che studio algebra lineare per capire questa maledetta storia dei transformers alla fine forse ho pensato di capire qualche cosa poi esce fuori un nuovo articolo e dico cavolo questo è un simbolo che non ho mai visto cioè questo è una cosa differente per esempio mi misuro da 30 anni con cose che non conosco oppure che conoscevo 20 anni fa e poi non conosco più e cerco di capire nuovi metodi perché questa anche questa curiosità misurarsi con saperi esterni un tradizionale collega critico tendenzialmente a volte che impara un metodo lo tende a replicarlo nel corso della sua vita molto difficilmente lo cambiano solo anche perché i metodi nelle scienze umane appunto in realtà non esistono esiste in moltissima forse la filologia però tu vieni da un campo che è l'unico campo delle scienze umane dove c'è una metodologia molto chiara ed è abbastanza appunto empirica perché parti dai dati ma se no molta arte della scienza umane il metodologo è soggettivo si fa la sua metodologia se la inventa e poi la contraviene Paolo se siamo guarda una battuta proprio io la pensavo così quando pensavo che i settori scientifico disciplinari fossero una cosa seria allora sono totalmente no allora ecco siamo siamo in tre essere per l'abolizione dal punto di vista pratico ssd cosa devi sapere allora qui parliamo di ssd perché la cosa non è affatto irraggibile soprattutto nell'odica delle keywords in cui si fa dare tutti e purtroppo dobbiamo passare anche se siamo in tre essere per l'abolizione me l'ho sempre detto io sono qui a aspettare che le murali generiche cadano non sono una cosa seria e poi c'è un'altra cosa rubo un argomento non sono una cosa seria qui dovrei dilungarmi cos'è la filologia classica perché è diversa da latino e greco eppure dentro ci sono gli antropologi e quelli che fanno le lezioni ma ora c'è anche il tardo antico lasciamo perdere per una cosa seria ha detto Raoul Mordenti le discipline questa è una provocazione non sono definite dal loro oggetto ma dal loro metodo per esempio storia per esempio c'è storia non si può dire che la storia moderna è definita dagli eventi la storia contemporanea e dagli eventi delle cose contemporanee altrimenti i paroli d'Italia che studia i promessi esposi studia la storia contemporanea e la seconda evoluzione industriale la storia di sociologi i giuristi i geografie e l'occhio con cui lo guardi questa cosa è interessante era Raoul Mordenti ed è seria dal punto di vista pratico però qui dico la mia profezia e poi vi saluto la mia profezia è funeria l'edificio crolla dall'alto cioè se continuiamo a levare giovani generazioni di 25 anni dottorandi che entreranno all'università solo se sono molto ancorati ai loro saperi umanistici non gli conviene fare informatica umanistica alla fine rimarremo tra vent'anni senza informatici è la stessa LM43 ma chi terrà dentro io la vedo onestamente in maniera un po' negativa perché oggi mi è capitato varie volte dare consigli a 26 anni dottorandi alla sapienza e io consiglio dico loro io ho dedicato la mia vita a questo perché questo può cambiare le scienze umane con ciò la società io lo dico sinceramente e lo rifarei ma sono messo male e a lei guardando noi occhi dicono io lo consiglio si tenga stretto alla filologia digitale germanica si tenga stretto alla filologia classica se no non entra e allora questo fu non entra uguale è un altro discorso però voglio dire se non risolviamo questo problema con uno stratagemma politico quale che sia l'edificio poi crolla a mio parere dall'alto questo se ne uso questo proprio un paio di battute tre cose rapidissime una speriamo che i settori disciplinari ne aboliscano anche perché saremo l'unico paese del mondo che continua a ragionare sul reclutamento attraverso i settori scientifico disciplinari tutti gli altri ragionano per progetti di ricerca non si vede perché anche noi non dovremmo adottare a prescindere dalla provenienza individuale lo stesso modello punto due in realtà l'IRC l'aveva trovato qualcosa che secondo me se io adesso lo dico qua non ce lo siamo mai detti ma l'SH 512 secondo me ci ritroviamo computational methods in the cultural heritage domain cioè secondo me esiste cioè non è impossibile trovare qualcosa che ci accomuni e poi io capisco il tuo ragionamento io penso anche che le metodologiche al commons noi ce le abbiamo guarda banalmente io penso all'approccio che abbiamo avuto quando abbiamo immaginato di creare questo corso di rave un po' di filologia ci vuole ma per il metodo filologico un po' di sistemi di organizzazione della conoscenza anche se non fai archivistica biblioteconomia lo devi governare pensiero computazionale l'approccio critico e algoritmico alla rappresentazione le strutture di dati i sistemi di classificazione i modelli le edizioni la costruzione di raccolta e collezione che tu faccia filologia germanica letteratura latina ingegneria informatica biblioteconomia archivistica questi sono i saperi trasversali che un digital humanist non può non governare qualunque sia la sua provenienza disciplinare poi sono d'accordo nel dire anch'io con i ragazzi su questo sono sempre molto chiara scegliete comunque un settore scientifico disciplinare lì fatevi riconoscere attraverso una produzione scientifica che sia apprezzata da una comunità perché perché adesso sappiamo che funziona così sempre se funziona che il reclutamento funziona attraverso l'identificazione su un settore ma se io dovessi mettere in piedi un settore scientifico disciplinare le digital humanities i saperi che ci devono essere che sono quelli che ho appena detto che banalmente se vogliamo prendere anche una roba storica companion to digital humanities blackwell 2014 che non era digital humanities era humanities computing principal questo è il mio personale punto di vista qualcun altro vuole aggiungere qualcosa perché altrimenti passiamo all'ultimo volevi dire qualcosa Fabio? no tu vuoi dire qualcosa? sì no sei proprio borderline no no ma va bene va bene la voce arriva non deve immombare credo che sia interessante rispetto a questo discorso informatico humanistica digital humanities big tent eccetera eccetera comunque ritracciare dei punti di inizio allora i punti di inizio di questo mondo per Fabio così inafferrabile per Francesca condivido di più con Francesca invece comunque che dei che dei punti di riferimento condivisi li ha allora gli inizi di questo mondo di questo universo di questo contesto di studi sono degli studi che sono che mettono in relazione biblioteche digitali quando ancora non si chiamavano così con delle necessità di studio di quelle raccolte di testi parliamo di il beniamato padre Busa che viene sempre portato come un santino ma andiamo a guardare cosa stava facendo stava costruendo una biblioteca digitale delle opere di San Tommaso e voleva costruire degli strumenti per poter usare questa biblioteca digitale in maniera diversa che non semplicemente mettersi a leggere no? primo l'altro pezzo che noi in Italia non conosciamo o pochissimi conoscono perché se abbiamo qualcosa abbiamo il santino di padre Busa su questo e non abbiamo altro è Pensilvania centro di supercalcolo lo chiameremmo oggi dove vengono inventati i come si chiamavano? i 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 yi i i ii ii con gli israeliani di Emanuele Tov, cioè le Digital Humanities nascono, poi non dico che devono essere ancora qui, ma c'è un'origine chiara, nascono in un contesto in cui si vogliono studiare delle raccolte di testi organizzate che all'epoca non venivano chiamate biblioteche digitali, ma di fatto noi oggi le chiameremmo così, e quindi c'è un elemento forte rispetto a MSTO08, per le quali ci si rende conto che se le si vuole studiare con i computer che stavano incominciando a essere disponibili, perché quando Busa va da Watson a New York è il primo che prospetta che il computer serva non per fare calcoli complicati, ma per lavorare con dei testi, pensate cosa significa quelli che studiavano i 70 con i computer di quegli anni là, il greco, ma il problema di come rappresentare il greco in un computer è venuto fuori, come dire, si è risolto decine di anni dopo, loro l'avevano già affrontato allora. Allora c'è una connessione fondativa stretta nello studio dei testi, nello studio che potremmo chiamare filologico, critico letterario, cioè quello è il punto fondativo, ineludibile, perché se non c'è stato quello noi non saremmo qui oggi. Poi c'è stata una proliferazione, esplosione di linee di lavoro, di ricerca, di metodi, eccetera, che se vogliamo sono in qualche modo l'esplicitazione nei fatti della potenza di concetto che c'era in quella cosa là iniziale, che quando è incominciato a realizzarsi ha fatto rendere conto tutti che allora si potevano anche fare quelle altre cose, quelle altre, quelle altre, quell'altre, in ambito umanistico, in ambito di scienze umane, in ambito di scienze sociali, ma è iniziato in quel contesto lì. Questo punto secondo me non deve essere dimenticato perché aiuta a capire il perché alla fine un po' in qualche modo si ritorna sempre a girare intorno a questa questione del fatto che che cosa si studia, si studiano i testi, ma studia... C'è una ragione per questo, ed è una ragione fondativa da non dimenticare. Grazie Maurizio.